Amaury Ribeiro si è appena conclusa la partita contro la Finlandia, vinta 3-0 dall'Italia. Vuol dire che usciamo secondi dal girone, da questa fase iniziale del campionato europeo. Cosa significa per noi e come ci poniamo adesso verso la fase successiva? Bene, abbiamo messo con l'obiettivo il minimo arrivare secondo, perché sapevamo che sarebbe buono per noi per andare avanti in questo campionato. Così abbiamo fatto, abbiamo raggiunto questo obiettivo e adesso lavorare per le quattro di finale, che mi sa che troveremo con la Croacia, una squadra che già conosciamo, già abbiamo vinto prima, siamo in grado di vincere qua anche, perché già l'abbiamo visto, non è una squadra tanto forte, lo possiamo fare. E così pensate sempre di andare avanti sulla ricerca di arrivare sul podo massimo qua, a queste campionato europeo. Grazie.